I precari dovevano avere una forma di riconoscimento straordinaria, il governo ha detto eliminiamo la supplentite, è riuscito in un'operazione straordinaria in cui i precari sono rimasti, anche sono aumentati, e chi è stato immesso in ruolo tra mille incertezze con un sudoco impossibile da fase 0A, B, C, ci saranno a D, non sappiamo quando finirà e quando avremo il risultato, anche gli immessi in ruolo vivono con molta angoscia e con molto disagio questo problema. Quindi un capolavoro straordinario in cui non accontenta nessuno e non fa il bene della scuola. Lei ha parlato di contratto discount? Sì, ho parlato di contratto, io ovviamente parlo di scuola discount in generale negli ultimi 11-12 mesi. Parlo di contratto discount perché, ripeto, nella bozza della legge di bilancio è prevista, pare sia prevista, è una bozza quindi appresa con le pinzette, pare sia prevista una cifra di circa 300 milioni di euro per tutto il pubblico impiego, quindi stiamo parlando di circa 3 milioni, 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici, vengono fuori circa 10 euro lordi. Noi abbiamo calcolato che per quanto riguarda gli insegnanti siamo di fronte a circa 150 euro mese di perdita negli anni che vanno dal 2010 al 2015, cioè del blocco. Mentre per quanto riguarda il personale ATA, quindi amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori, eccetera, siamo intorno ai 120 euro mese, questo significa che se io effettivamente coprirò con la legge di bilancio 10 euro lordi, stiamo parlando di cifre lordi, nel mese, gli insegnanti recupereranno il maltolto in circa 90 anni, quindi con una generazione dovremmo farcela penso, mentre il personale ATA sarà più fortunato e recupererà in poco più di 72 anni. Nelle scuole c'è l'impossibilità di sostituire il collaboratore scolastico e il personale di segreteria, quindi noi ci troviamo in una logica di tagli che ci portiamo avanti dal passato, l'impossibilità di garantire sorveglianza, assistenza e anche la pulizia dei locali scolastici. Ci sono delle scuole che riusciamo solo ad aprire e a chiudere e all'interno delle quali non riusciamo a garantire la sicurezza dei nostri bambini, è un segnale grave che noi diamo anche alle famiglie.